Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di X-Quadro Nonostante il mio video che penso sia normale Il fatto che io dica che siamo assenti Dico siamo assenti appunto Qui il camera mi dice Ma indietro perché Ecco, mi fa dire Ciao ragazzi Mi fa dire Saremo assenti Il giorno dopo Facciamo il video Facciamo un video così nuovo Questa Questa è l'armese che verrà utilizzato Penso che già forse l'avete visto nei commenti Ogni gol una cintata Sì ragazzi, sì Non prenderò neanche un gol Con il nuto io Alzati, dobbiamo fare intanto la prova La prova cintata Si fa l'ultimo No, vabbè, ma quella è stata una cosa Per chi voleva fare Mi può spizio di darti un calcio Adesso ti alzati e facciamo la prova frustata No, 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 no Alzati Allora Allora Minchia, stai facendo malafiore davanti al web Ti vuoi alzare? Sei un cagare di merda Sei un pinnone Sei una merda E io faccio lo stesso E non è una merda E non è una merda Ti prego, Davide Piano Ti ho sgricciato Ti ho sgricciato Non ti preoccupare Davide Piano Davide, ho il culo ancora rosso Ma che è ancora il culo rosso Ti è sicuro che è calibro Aia Che cazzo cagare Era fortissimo Era fortissimo Perchè altro Aia Andiamo al video Aia di nuovo però Però lui ci fa le tre ore Bella a tutti ragazzi Dopo anni E benvenuti in questo Ma quali anni Cioè ieri mi fai fare il vlog Ritorniamo ai discorsi di prima Quindi benvenuti Buona salve a tutti Come ha detto Barça reale Questo classico Infatti si ripeterà appunto In vera vincere a 3-1 Come è successo in realtà Beh Dario noi gli diamo l'opportunità Di parlare sempre al solito Ragazzi La partita del corpo Verranno Ma che ci si prendono E ci si prendono E ci si prendono Allora abbiamo il piede Dere e sinistro O che abbiamo Chi è dentro Giustamente Sì davide Faccio destro Vabbè 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 Ascela Vabbè Vabbè Ma la tua cattia Ancatti e Morata lly Col paccio sinistro Vabbè Vabbè selv di strada Accams Qualcosa Assurdo Verranno Puro T stopped Aspetta Che vi�se Vabbè Vabbè Ma Non c'è ם Vabbè 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 mettiamo venti minuti a te no sei si attiva sempre e quindi si attiva la partita io li sto sgamando no non sento bene oh my god tanti altri che non c'è più all'altro noi ora comunque vi assicuriamo che vabbè per chi non leggere non più piuttosto attraverso attraverso il bambino prima dell'inizio del 2015 sicuro passeremo attiva 15 non sappiamo c'è sulla next game ma sicura almeno su Xbox 360 passeremo attiva 15 si ragazzi adesso a breve capito ci compreremo e quindi poi successivamente compreremo cosa che sarebbe registrato il 64 e faremo finalmente anche gameplay ma potete vedere questo tiro di non andando assurdo fa paura un'altra cosa che vorremmo dire l'ultima cosa l'ultima delle prime ragazzi il Dario è molto sconsolato oggi abbiamo Neymar Neymar e vabbè anche lui anche lui aveva aperto le marcature nella partita reale che si è stata quando è stata sabato ma qui non è andata così ah che poi chi prende i gols e becca una cinghietta una cinghietta e ora ci sono arrivato perché ero così preso dalla partita ma che è tanto vero aspettate Ronaldo che vuoi mi sa come diciamo buca 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 oh oh è rigore ragazzi quella cosa che finivamo dire ve la diremo in seguito perché ahahahahah hai spinto hai un alegato a сделare se la so sguardare quindi ora ditevo in seguito si Maria come Blake ما che 연습hou so che dobbiamo fare guarda questa skew come andiamo raveniamo polpaccio ragazzi non si vede niente però tranquilli perché non l'ho messa a fuoco brutto comunque polpaccio fidate anzi vi sto facendo del male da sonno cioè il polpaccio è pure doloroso non è vero non fa niente facciamolo vedere tu ti fidi di me poi lo sai con chi me la scopo tu ti fidi di me ragazzi siete pronti aia il signore aia mi ha pensato il signore no e qui c'è il ghiotto i messi l'era il messi e porca troia dai cazzo topa competenza di stavi piccoli mi sono ricordato quella cosa che vi dovevo dire nel frattempo è tutto il collega quella cosa che vi dovevo dire e anche se stai nel 2015 continueremo la stagione del palermo perché ormai la finiamo finiamo quella stagione giusto Dario e poi niente continueremo spiderman al solito fino alla fine del gioco adesso vado a morire e vedrete in diretta la e vedrete finalmente porca buttarazzo un pochettino la busse e 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 Porca buttana, porca buttana, porca buttana! Sì, a fuoco, vediamo cosa è ramana, il scapezzolo no, da, non ti preoccupare, non c'è andrò a fuoco, eh, da piangere, da, no, fidati, tu sai, no, io non me lo volevo la magliettina, no, assolutamente, buca, 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 no, non dò così e basta, aspettare dove ci sarà la telecamera, questa paura, questa paura, sì, questa blaster, questa blaster, questa paura, dove l'ho la cintura, è questa, da mettiti, guarda, ti baggi, guarda, ti baggi, guarda, ti pari, guarda, ti devi promesso, non so come dato, vincia, spero non ti beva, è attivato, sì, e ho detto vincia, stessi, ragazzi, no, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non spero di non fare i modali il cilindro il signore il capezzo l'idea amore che devi chiedere atto togliere un belgiettano proprio il capezzo è sempre un capezzo un paio che ti preghi e trattato il servo un po' sbagliato è un momento prima facciamo più e quando ti fai a doccia poi davide o no ma il più dai dai ai no non mi hai fatto niente no aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaah aaaaaaaaaaaa che cosa suuuu Dario grazie Dario è auto legionista signore era giusto perché non segnava come gatti Diciamo un po' dai La m***a che non farebbe mai a fare Grazie Davide Anzi non devo aspettarti Allora Davide ha detto che non vale Vale Bello grosso eh Piede destro Dai Davide ha avuto il piede sinistro e il piede destro Aspetta che abbassiamo Un po' di fuoco Mettiamo un po' lo zoom Bene Siamo pronti partiamo Forza signori Dai è pronto Lacrime scende dagli occhi Io spero di dare Così viene benissimo No compa non fa male Fidati Fidati io non fa male Mi ne vale con l'è lunga Per diabo Io l'ho fatto Stavolta per un po' di spazio qua Tu per forza come fossi Stavolta per sky E stoanquando E' spostando 3 ore Come voi ci mettiamo qui Pronti Non mi ha fatto niente Frustare Niente Niente A fruttare Niente A fruttare A fruttare A no A ha Ko Usani orco bestio se non lo prendo io non lo prendo più non ci fa niente stavolta in testa questo schieno mi si è fatto più male lui che e' benze margine e' benze margine e' un periodo mi capita quando estremia così a casa guardate il bel gol si ragazzi che c'è un sang guardate per farci a me a braccia chi è il sangambroso? si è un sangambroso al panza si un altro gente polpaccio destro polpaccio destro cioè due volte nel polpaccio mi devo prendere sto frocio devo pesare il polpaccio si è un sinistro due volte mi ha fatto male ma dai le volte ci ho preso tutti adesso avevo riovio mi ricordo la posizione del coso 3 che si sa ahahahahahah mi sapevo devo fare la prima botta le valetine ragazzi se non ho fatto la prima botta ti ti chiedo che i diritti è meglio di me mi mi c'è allora Ch código Sì l'ho fatta Che lo faceva? Eeeeeh Si legna Ehm Ascoltando Ma dov'è? Buttano I suoi fai Vaffanculo Va Ed è venito Si è venito Ma facendo il quinto Quando poi Con il persadino C'è uno Un altro Adotto che il video Penso non c'è adoro Faccimolo un po' Perché abbiamo Abbiamo notato Che è tenuto Potri passante Quanto Ragazzi Se non vi dire Il video andyp ma poi ci facciamo male ragazzi cambiamo le squadre, cioè le invertiamo no no cambiamo le mettiamo in un'altra squadra eh io mettiamo aspetta appunto le investiamo vabbè dunque ora ora c'è ragazzi i soliti disturbi eravamo rimasti qui la squadra mettiamo allora a sto punto in verità perché ti amo ian era così non mi confondo nel video no 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 ti confondo nel video no mi confondo nel video perchè mi ricordo se giocavamo con la partita io contro di te o tu contro di me al contro giochiamo senza fare niente io pure pinto in porta quindi ci parla a potere io io l'ho pinto dai io l'ho pinto maledetto Luca ma mi deve esplodere mica cosi male mi muoio mi hai detto che ho un voto per il carerati in realtà su andrei c'è mettiti in per prevedere la mangia no nemmeno recce noo io la pevo ah beh c'è tu la pevo ragazzi considerate già pezzo poi come la posso pronunciare vediamo se andrà adorare fa più di 4 ok dai da pinta no david un grande porciere mi preferita con niente da tolla rapista però non è il livello del mio di pochere al mondo WUHUUU VAMOS A LA PLA VAMOS 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 RIGORES oh caputana RIGORES a ver, è che fu bellissima guardate 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 non mi guardate guardate lo scaltro oh capri lionel messi primo gol nella seconda partita i pizzieri stanno finendo ne rimangono 4 però vabbè fa niente cos'è? gamba sinistra a posto sento ho scritto tieni frustami tutto che scherzo sto gesto ingerendo non mi prendere i coglioni perchè ti giuro ti ti ammazzo è qui questo da però gira quindi attenzio prendo l'ultima parte non mi prendo guardate quindi guarda perchè devo.. perchè mi fai ciò? mi fai no vedi non va è allontano con la sciglia ma sei rincoglionito vabbè no questa la va.. no aia! due volte ma sei rincoglionito nooo non mi fa l'esagerato non mi fa l'esagerato non mi fa l'esagerato ah ragazzi se te l'esagerato scrivetelo nei commentati ora subito avrò prima di le cercare mi darò una scinghiatta вопросы e trigger data tutta la voce la voce la voce la voce la voce la voce è l'ambin vabbè vabbè che sta parlando sonah tu hai detto che smoo ti sei forte di capir fermarmi oi alle la vita sulle fermate mi dà mangiare il gigore alla fine ci sarà la corsa special non è vero perchè già c'è stata finita non è vero questo io no, mi ricordo eh maxi li fa qui lo mangiare il gigore apposta non è vero ascello si vengono ascello 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 tutto ctc ascello non mi picchia la faccia però finito il gestico di 300 euro ok in tono massimo e dai compa, non fai così non c'è ma non devi fare ahahahahahah dai ragazzi lo soccorriamo Se vuoi. E con l'incerio di Dario. Fa male. No, che va bene. In quell'urlo. Quindi effettivamente da tutto il nostro segnale. Cercherò di segnare di questo. Questo corpo lo dico a tutti gli iscritti. Che ancora sono iscritti. Come hanno potuto fare? Grazie. Prego. Ancora ormai. Ormai sono distrutto. Opa io mi sento in colpo. Gamba destra. Mi sento in colpo. Di nuovo la gamba. Un perinca di gamba è scritto. Questa è la gamba destra. Ti ha scritto gamba XX centrale. So. Luca. Dai. Cafu. Io non lo volevo fare. No, tu lo volevi fare. Tu sei la moglie di fare. Tu hai avuto però sta idea. Io l'ho detto. Dai, vedi che è stato quel pezzo di merda che ci ha consigliato. Lo scrive nei commenti e si vergò. No, non lo volevo fare. Poi, guarda. Così il culo. Dai, apposta dai. Ma farà lo scroscio. Fai lo scroscio. Fai lo carpi. Non lo vuoi fare. Chi si allontana. Fai un po' un cazzo. Ragazzi sono troppo buono Sono troppo buono Io sono troppo buono Che mi sto facendo fare Vabbè non ti fai niente Dove andare Questo è bellissimo Questo era bellissimo L'anima Che gooo Di Lionel Sì signori Questa è una promessa Una promessa Guardate le unghie Guardate il gol Questa non vale signori Perché è un padonetto Un ultimo Poi verranno risorteggiati Di nuovo tutti da casa Un uomo distrutto Braccio Io non volevo Aspetta un attimo Io ripeto Io non volevo Ragazzi voi mi prenderete Mi prenderete per una persona malvagia e cattiva E' cattiva E' lui Che ha detto di dire E sapeva di Guarda solo pure con io Stupido Un cento pentolo in palo Fittia Aia Aia Abbastanza Calma Aia Mentre di Ormai da tutto quello che hai subito Un pentolo Sto a chiamare Lo sento E adesso mi è un po' Ricordi Questo silenzio Non fa presagire Un tocco Non so Adesso si prepara l'ennesima cingliata E poi questo è bellissimo Ma questo non vale più Se ne abbiamo superato i quattro Piedra Non voglio Oh fai perché tu fai sui Allora Tu la posso E se è sincero Dario ridi un fuoco Ti prego E' un'orgia pazzesca Continuo in perturbabio Scusate ma non posso Non ti prego Ficchia Oh ti pare con chi stai parlando Come stai Polpaccio Destro Prego Andami in chiamacina Non mangiate Ehm Non mangiate Io so dove Per favore Perdi i tempi inutili Il video ci sta Non prego ti calmi Vedete Lo so che meno ti bevano No Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Oggi Aaaaaaaaaaaaah Cosa ti ho preso? Aaaaaaaah Aiuto a tenere il mio pello è finito oggi c'è una persona mi ha castrato lo sapevo lo sapevo che un giorno c'era un motivo che io sognavo quelle cose brutte ma lo sentivo sto accadendo pure la voce guarda che tu è castrato è bello è bello proviamo questa scena cerco di farlo di bene eh mangiata c'è comunque perché non l'avesse capito ho fatto spagnato che un genitale mi volava guardi ti senti appena ma non mi è volato meno male per te meno male per te se vuoi meno male che mi hai preso piano anche l'era piano però il cacchio ti senti non continuo non fa posto sto fiumando la partita troppo non continuiamo non è troppo troppo vediamo all'ultimo quante sono in casa decidiamo mi aspettiamo poi u attenzione ragazzi Dario mostra i primi segni di debolezza è lui che era così sforza lui che diceva comunque di continuare per essere arrivata al punto tale da dirgli da fare brutta figura nel web no la figura no però da dire una cosa del genere significa che a Dario abbiamo fatto la voce siamo continuando Dario pure è finito a scrivere non è finito a dire non è finito a dire compa eh compa va bene ragazzi il video finisce qui non ce la faccio più troppo fiume ho portato a dare a lì è arrivato a portare lì mi parma e ce ne vuole mi dispiace lasciate un like ragazzi almeno apprezzate il lavoro che abbiamo fatto io veramente non volevo ragazzi consigliateci altre sfide noi saremo qui come abbiamo fatto con il ragazzo che non mi ricordo come si chiama che ci ha consigliato questa sfida sfida sfiscita bella tosta ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao saluto ciao